Spigolo in caccia, pochissimi accessori, Amici 105111 per il vivo, i pesci ricordiamoci cefali da almeno 20 cm come misura in maniva, se utilizziamo esche tradizionali andiamo su gli sasci 11007BN misura 4, misura 2, dopodiché i nostri finali sono fatti con 403 FC 403, 040, 030, non eseguiamo sulle misure, possiamo anche scendere per l'esche più leggere su uno 024, 026, ineschiamo il cannolicchio, il fasolare, lasciamo perdere la redicola perché qua stiamo cercando di pescare di pesci. Stiamo insediando prevalentemente le spigole e condizione visto che c'è una focce anche il rombo, abbiamo detto che stiamo usando il vivo e difatti c'è vivo su tutti o anguillina, più facile reperire spesso il cefaletto. Lasciando per un attimo perdere l'eschevo.